Il terzo gol in campionato di Mandelli regala al Chievo una vittoria importantissima per la sua salvezza. L'ultimo passo, quello decisivo, la formazione veneta dovrà compierlo domenica all'Olimpico contro la Roma. Diventa quasi disperata la situazione del Bologna, che non vince da dieci turni ed invece la squadra di Mazzone, per restare in Serie A dovrà battere tra sette giorni la Sampdoria, impegnata ancora ad inseguire il quarto posto valido per entrare in Champions League. Al Bentegodi poche emozioni, 90 minuti condizionati dal gran caldo e risultato deciso nel finale dalla rete di Mandelli, il più rapido di tutti sull'errore di Giunti in piena area. Inutile negli ultimi minuti del match l'assalto del Bologna alla ricerca del pareggio. Marcheggiani però sbarra la strada Cipriani e salva il successo prezioso del Chievo. Dopo il triplice fischio di Collina c'è spazio solo per la gioia dei Veneti e la disperazione degli uomini di Mazzone.